Siamo tornati su Resident Evil, dove devo andare? Credo debba andare a sinistra, comunque per chi ha seguito il primo episodio, penso a nessuno, i consumatori di Viagra sono ancora in giro, stiamo cercando appunto la sede centrale per un reclamo. Sì, salta oltre. Ok, lo c'è. Esatto. Un uvo! Prendilo, prendilo, prendilo. Sì. Prendilo uvo di Galina. Ah, destra, 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 lascia stare il mio pacchiotto. Non lo tocco. Credo che tu debba andare... Aspetta... Che cazzo. Forse di là, no. Dovresti andare forse di quella porticina. Ah, sì. Sta bene. Sto giocando con le freccette. Eh, per forza. Ho un problema assurdo, però non fa niente. Ci, 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 ci provo. Tanto io muoio su. Tanto non ti do neanche una cazzo di mano. Vai! Corri! No, voglio camminare! No, no, tanto devi correre per forza. Che fao! Corri Jack, corri! Non mi diti di corria! Eh, quanto cazzo vuoi. Oh, te se! Non l'hai schimato benissimo. E quali sono 67? Cazzo, ti piace comprare i joystick della merda? Di Mark Out. Che cazzo di Mark Out? Wasabi? Che cos'è? Ti dongo il... Premili tutti insieme, prima o poi schivi. Si. Ah, si. Che cazzo hai messo che vuole 67? Guarda. Devo riprovare a fare questa cosa... Mi ricordo tanto Crash Bandit quando la palla di inseriva. Mi hanno messo col masso vivo. Bene, per gli altri. Si. Le cose belle! Eh! Premendoli tutti! Allora quando c'è scritto 67 premo tutti, 8 e 9 premo tutti, non mi interessa. Vedi le cose che splurcicano. Oh, ignorante! Eh! Sparate! Eh, ora ci provo. C'è una sopra di te questa qua. Ma proprio sopra di me? Girati. Eh, si. Cosa sono? Prendi, prendi, prendi. Spinelli. Ah, sono spinelli? Non si fumano ma sono buoni. Ok, ma sto drogati in merda. Ho preso uno spinello. Quattro consumatori di viagra e la spinelli. Capirai perché il Messico è in deficit economico. Eh, si. C'è un signore che tiene una torcia olimpica in mano. Si è portato la torcia a Tokyo. Fermiamolo. Non mi avventerei. Non mi avventerei. Oh! Come ti abbini? Con tutto tranne quel tasto che avremo qui. Spargo. Combina le tre erbe, vai. Abbina? Abbino con questa. Abbino con questa esce una cosa buona. Si, si, si. Si, che bello. E che! Magari vai. Si. Allora. Oh! Vai giù. Eh no. Puoi morirci male tu. Come non colpire i punti vitali. Eh, calma. Dopo otto colpi ce l'abbiamo fatto. Le classiche pesetas. Le classiche pesetas. Invece una trappolina. Se spari esplode. La trappolina. Attento. No, la trappola non l'avevo vista. Non l'avevo proprio vista. Che non fa niente. Si è tornato in giro. Oh! Ancora? Non l'avevo vista. Ma perché mettono le trappole? Che hanno paura dei... Le prenderate e le danno il ruolo a benzina. Ah, buono. Devo andare di qua? Si. Eh, si, vabbè. Esagerato, dai. Quante cazzo. Cazzo di rambo. E' su. Non c'è che si è bloccato tra la finestra e il muro. E' il fermo che esplode. Voglio farti vedere. Io scappo. Si. E' esaminare. E' una scatola degno. Ma va. Come va. E' una multa ignorante. E' esaminato. E' esaminato. Che cosa significa che sta. E' esaminato. sono vivo se vivo come però non lo so sono vivo può usare anche l'uovo è quello che ti ricarica il baiolo queste belle buona se ne escono con la dinamite ma che cazzo può entrare anche dove stavano loro e a vedere se ne vedete qua c'è comunque l'entrata questa è una casarella la porta è sbarrata qua ci siamo andati quasi stai rifacendo il giro quindi l'entrata è qua verifica un pochino in giro direi che l'entrata è qua si vede l'accetta di uno guarda che gli faccio stelti ignorante salve che vogliamo fa e che palle e bastia mamma mia non è che survivor eh ma con ste cazzo di fregge favo benissimo proprio mamma mia prendi prendi non mi darei se ne voglio vedere quello che c'è a terra eh vabbè ormai pesita sempre una granata prendiamoci una bomba a mano e forse quel cassettino si apre sinistra messo qua si esaminiamo no 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 sai che dobbiamo per forza uscire si l'altra casa di là non so se mi conviene usare l'uovo ehm da quello che ricordo forse vedremo tranquillo non ne vediamo ma dai che ce la fai c'è il coltempo ma no devo aprirla con i calci perchè sono come una macchina da scrivere prendiamo i protettili che sono sempre buoni vediamo qua se si apre si apre con le pesetas pesetas le pesetas mi blocco tra le sedie perchè sono intelligente l'ho vista alla fine? no no non ce l'avevo vista prima era per dare un po' di sushpence ci segue per dare solo un po' di sushpence i sushpence vedi guarda ora tengo la trappola qua non lo fare ti passo un attimo i joystick che rompono il cazzo a casa si 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 continui possiamo sbuggere? senza che facciamo saltare in aria tutto ok ma no come lagga questo gioco ma per chi? penso che abbiamo finito il capitolo continui lei non vediamo finito il capitolo se è il filmato o ignorano chi chiede? che sia il giro presidente erica iglesias erica iglesias erica iglesias porca porca ok ok ho solo una questione molto importante prego sono stato stiché in merda quasi sicuramente ma quasi quasi non la fumo perfetto posso? no no qua la fa figa professore capoccio ti ricordi che è di guerriero contra cairo? eh eh viva viva a lei grazie ok abbiamo finito il primo capitolo salviamo? eh se vuoi salviamo e andiamo avanti e andiamo avanti alla morte sicura da deboli umani ma la fumo purino a dire abbiamo detto no il gioco io fumo il gioco lo sai gli stanno imbiandando qualcosa e io te lo dico che i presi sono tutti quanti coglioni e i cani no altrui no no le sui 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 ai 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 sui 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 In un po' e in un altro. Vuoi dire cosa sta qui? Americano, si? Ora, cosa porta un blocco come tu a questa parte del mondo? Oh, E, E, C, chiunque sei. Il nome è Leon. Vieni qui cercando questa ragazza. Hai visto? Ah, lui deve cercare la figlia del Presidente. Che qua non fanno sempre le figlie del Presidente. Non sembra americano. Non sembra americano. Nooo. Vabbè, se la grande sarà molto più bella. Ok, la cazzo ti è calcigno, no? Sì, va bene. Nah. Eeeh. Questo sta abbastanza incazzato. Mi ha pensato più lento. Eh, bravo. Per colpi l'Italia. Secondo me proprio. Avevo stato un coppio in Madrid. Ma ora sono solo un buon ragazzo per niente, che sembra essere abbastanza una ragazza. Perché ti resti? Fuff, polizia. Tu puoi mettere la tua vita sulla linea? Eeeh, sì. Provo. Provo. No, ti salto. No, ti salto. No, 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 no. Eh, si stavano parlando un altro podio. Si diventavano fidanzati. Si vuole. Eeeh, anche lo scomuscio. E l'amigone si è andato. Chiassone? È Leon. Scusa che non potrei riuscire in contatto più tardi, ma ero un pochino. Sei bene, sei tutto a posto. Oh, papà. Sì, ma stanno cercando il Viagra? Ah, stanno cercando... Sì. Cerchiamo il Viagra. Ok. Figliamoci l'ovetto. Sì, che mi è caricato un cazzo. Ho detto che non mi è caricato un cazzo. E perché lui vuole fare la parte... Robbentini, robbentini! Qui c'è qualcosa? Non c'è niente. Qui ce ne possiamo andare. Come ricarico? Un quadrato. Ok. Salve! Lei chi è? Ah, questo è il tipo venditore... Compra da me, ti prego. Belle. Ma ci accattiamo, non sa chi roba. Ci siamo i big... I ricconi con i big money. Prendere. Ah, se mo moriamo ci fa ripartire da quel filmato di merda. No, attendi no. Allora che pista porta... Vado... Vado... Andiamo un po' in mercante. Salve! Lei chi è? Hai qualcosa che potrebbe interessare te. Hai una selezione? Una buona cosa! Allora, vai prima su Pinti. Ok. Che stai vendendo? Devo vendermi gli Spinelli. Ah, perché questo è un drogato. È tutto stranato? Più la peseta. Sono due. È tutto stranato? Grazie. Poi compra... No, il getto a me si deve mettere la dimensione del carico. La mappa del tesoro dici dove stanno gli oggetti. Poi c'è il fucile. La mitraglietta. Mmh. Un lanciarazzi. Un appaglio di diodo. No, no, no. Fucile... Ah, è per il cecchinaggio. Allora, vediamo prima spray. Ecco. È tutto stranato? Ne prendiamo un paio. Perché... Che devo fare? Lo devi spostare dalla legge. No, ecco. Uno. Un paio di spray. Possono servire. E poi vediamoci... Un fucile alla mitraglietta. No, ecco. Lo prende tutto e tu. Ah, è un luogo di entrambi. No, ecco. Semi... Puoi girare gli oggetti, eh? Sì. Guarda che... Ah. Ok. Eh, quindi possiamo prendere i fucili. Ah, e qua ci va. Quindi credo che è così. Siamo a posto. Esci. Arrivederci. Io direi di curarmi subito. No, va bene. Ce la facciamo un po'. Buona morte. Buona morte. Esagerato. Apri. Lo sapevo. Eh? Dove? Senta lei. Dai, alzati. Eh, che ballo, eh. Devo stare molto attento, perché questi qua vengono su come dei dobroditi. No. 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 Non. No. 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 E va bene E dai mi da meglio Mi sto servendo di un bug del gioco Ezza Come cambio? Arma di prestato Due colpi per il fucino Carico Carico Si avvicini Un po' di prestato Un po' di prestato Ma sto stronzone di merda Andiamo qua E va Andiamo Prost Avanti Ci sono confetti per tutti Ok Via Viene qua Viene Viene Vai Salite Salite Un po' di prestato Una volta morti Viene 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 Sì, li volevamo ammazzare tutti. Credo che adesso possiamo riequivaggiare la persona che caggia un bel amore. Allora, se riesco... Non ti muoveremo! Cosa c'è di buono? La metà di sinistra, bravo. Mitra, inietta. Punizio, giusto. Salto giù. Così. Ah, c'è ancora il tipo di prima che... Muoricci. Muoricci. Ok. Ci dovrebbe essere o no? Talve... Giriti, girati, girati! Chiudi la mano, eh? Eh, eh, eh. Sai che sarà difficile da farti curro se succede davvero? Sì, non faccio. No, no. Eh... Aspetta un po'. Luce, vamo! Oh! Osto! Oh! Oh! C'è ancora... Eh! Ok! Bene, 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 bene. Ah, non moriamo tutta. Non ci sta più dentro, no? Qui non c'è niente. Ah, non c'è niente. Non c'è niente. Gli appadienti, le peseta. Va bene. Prendiamo le peseta. Su, l'erba verde! Che culo! Ah, erba gialla. A me c'è niente. C'è niente. La miglia. E poi, che pediamo. Ah, non c'è niente di essere qui. Vedi il colpietta, senti come sono, c***o, uscite e ora passo i joyce in c***o maschio. Ma perché? Eh perché non so che c***o fare. Mi lasci nella m***a con 0 colpi, guarda che m***o. Oh, guarda, 50 colpi per la mitraglietta, eh. Cioè, non so fuori. Fai c***are, fai c***are. È un po' autoso. Sei inguardabile sui spazi. Ah, che sì. Ma chi non va, che papà vuole conoscere un c***o? Eh non lo so, dipende, sei una brava persona qua. No, una brava persona, sì. No, però che papà non c'erano molti modi in questi residenti. Cioè, non c'erano molti modi a giocare. Ma hai ucciso, c***o. Quanta persone pensa a avere un senso, no? Eh? Hai ucciso, più di c***o non erano cattivi. Questo, ci stavo guardando. Ste c***o, c***o. Eh, che puoi dire. Io stico a dire la Panamonic. Panamonic? Que colpa di esse? Si, perché dovremmo? Si, perché dovremmo? Regalate-se, no. Così facciamo qui i trei com i sei. Eh, che tagli sto c***o che è triste. Ci mancava solo break. Si, break, break, sti c***o. No, uccidemi. Niente, sto fatto di muoversi con un quadrato. Un po' di muoversi con un quadrato. Ehi. Ah, celle facciamo qui lo spray. C'abbiamo lo spray? Quando è? Ah si. Ne abbiamo un altro? Vabbè, è finita qua la sessione, dovrebbe essere finita qui. C'è la macchinetta? appena la troviamo salviamo tempo di moscerini pure davanti al microfono di trovare l'altra parte dell'emblema di salvare e di interrompere qui la serie stugazzi joystick di merda ho appena serie ah siamo Tomb Raider, non posso muovermi se non mi fermo, giro e mi corro allora, dove cazzo sta l'altra parte dell'emblema forse è passato noi ringraziamo sempre Steam perché i comandi li mette a cazzo di cane ah l'emblema sta là quindi mi ha giocato un giro, ok Steam fa le conversioni a cazzo si 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 ricordiamo da Axolungo che conversione ha fatto cioè potrebbe venire tutti i computer della NASA col cazzo che te lo non so se l'ha fatto Steam nella conversione chi l'abbia fatta però veramente è stato fatto a me lo bezzetto Axolungo che resti in te e questo è il primo gioco ci aspettano ancora altri ok aspettano ancora altri giochi Steam ok ok non voglio fare Tomb Raider ogni fottuto gioco guardate fospite cioè vado in faccia agli oggetti per girarli ah hai preso l'altro emblema ah si vabbè al limite riconfiguriamo a questo punto il movimento risulta difficile non vale mirare con più difficoltà eh si piuttosto di morsi con il cazzo dobbiamo riconfigurarlo dobbiamo riconfigurarlo dobbiamo riconfigurarlo ok si quello sicuramente adesso alla prima macchinetta di salvataggio salvemo deve essere da queste parti no credo sia poco poco più avanti si ovviamente a lui gli date i 75.000 colpi che gli sprega a cazzo a me gli date i barri di uo assento pietro li voglio spregare perchè io so che c'è dopo rispetto al mio collega survivor che in caso di apocalisse gioco vuole davvero non durano neanche 5 secondi apri cazzo eh quanta roba eh dammi niente eh no le pesetas eh si mio cavo un lettere usa il tavico eh è agarrenlo eh con il polestero uv uv eh guarda cosa su 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 Ah, 3, 3, 4 Bene, non mi darò niente Non mi darò niente Non mi darò niente No, non mi darò niente Non mi darò niente Allora non mi darò niente Più che g Chevy se non c'è salvataggio su cazzo c'è niente non c'è niente ma forse si anche se non mi sbasta la zona è bruttina ah l'enigma allora era su ancora su su giù destra su ho sbagliato tutto ma il cazzo era non mi ricordo si è natale ma cazzo giramelo come si deve ecco fatto ci ho messo una eternità si 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 qui finisce qui finisce ah ecco la nostra macchina da scrivere allora apriamo prima i cassettini prendiamo le munizioni armadio le petecas solite ah boh queste sono note a caso la chiave con uno step ma la cazzo mi sta male ah no me lo confuse nei baule no ma non si salva adesso perchè c'è il filmato ah eh il filmato no ma ma cazzo Ammazzala, così finisce il gioco, dai! Che mi faccio ai fatti miei? Le minacce di pavola! E finisce qua! Salviamo? Yes! Vabbè, credo che anche il nostro video possa finire qua, ragazzi, se vi piacerebbe un pollicello, iscrivetevi al canale, fate un po' come cazzo vi pare! E noi ci vediamo al prossimo video, sperandoti di configurare bene il joystick! Ah, ho i miei dubbi, ormai ci ho perso le speranze! Vabbè, ci vediamo al prossimo video! Ciao ragazzi!